...a un simbolo di speranza... ...ma poi ha notato i documenti intestati al Diamond Seller, sua moglie. ...l'Occidente si è indebolito al punto da dover lasciare spazio a loro. Io credo che l'Occidente ricomincerà... ...correggere ed educare con modi tuoi. A volte lo portava di notte nel cimitero, che si trovava poco lontano dalla casa in cui vivevano. Non mi dispiacerebbe mettere in difficoltà, Carlo, circa questo caso. Hai trovato gli indizi nuovi? C'è qualche noto sto lato. Ah, rimane. E ora come fai? Non dico che potevo uscire. A casa come c'è? Ho capito, prego. Si accomodi, signore. Bravo. Bravo. E poi dicono che i batteri sono pietre i mignoti. No. Piega la coperta. Piega la coperta. Io stavo meglio in prigione, stavo. Almeno mi sono andato a pensare a quei miei che sono pieno di guai, io piene. Che cosa dici? Che cosa dici? Ma io credo che l'allenatore deve essere, ovviamente deve incidere e quando non è, termina sul fondo. Il segno di impesa, il compagno di squadra. Guarda che cosa abbiamo fatto in questo... Tu sai che sono? No. Di tutti quelli che ci stanno intorno, come voi, decidate questa grossissima opportunità. Allora... Allora... Da Blake Edwards, il regista della bandera rosa. Torni. Evviva! Ha scopato... No, non sono andato più lungo con lei, ci ho parlato ieri. E comunque secondo me lei in questo momento sta lavorando molto su se stessa riguardante lui. Non posso ripassare agli occhi dell'Italia, l'immaturo bambino che non la soglia. Non riesco a fare altro. Due, tre, quattro... Ma prendono una decisione... Sì... Beh, per quello che la mia esperienza personale è possibile la separazione a chi non... Quasi sempre io. Alfa sta scolpendo un bel salto. Una statuina così la metterei davanti a Casalia. Alle fatezze di San Giuseppe, solo che il viso è quello di Gior Sciarrone. Allora... E per finire ci aggiungiamo una bella fermetta. Autografa. Sono infallibili. Il padre del dottor Horst Schirmer, il dottor Max Schirmer. Il padre del dottor, il padre del dottor, il dottor, il dottor, il dottor... Il padre del dottor... Ai francesi... Ha tre patisserie francesi... Il panettone, il pandoro e... Aspetta, Salvi, finchiamo... Scusi, Joyce, volevo alleggerire lo staff. Tranquille, amico mio. Robot Santaccio, al cinema. A me, ragazze, le devi far aspettare, altrimenti sembri disperato. Un secondo, mi è inca... ...c'è andata sola. Guardi, aspetta! Ehi, va bene. Ancora! 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 Do di sabbia, è la parte migliore, perché ora possiamo rifarlo ancora più bello! Mi raccomando! Per sommare, rispetto ai tempi, gli FCA, la parte dell'autorettà del Michigan, l'importante sarebbe che il gruppo mantenga... ... ... ... ... L'hanno andato via in un libro, va bene. Ehi, magari, ma non tutti possono essere così. Uno magari si può basare per l'osso di questo sapere. Commuoverci in pretta. Quindi chiamiamo la nostra squadra di operai e terminiamo la demolizione. Addio specchi da darie, addio cucina chiusa. Ma per aprire la cucina verso la sala da pranzo serve una grossa trave. E questo è il prossimo. E questo è il prossimo. Il cacao, un tripulio di gusto e qualità che riflessa la macchina per l'ingrediente principe. Avicoltura finitivo. 21 milioni di pagine viste a mese con oltre 8 milioni di tetti unici. Siamo più. Staccare il mondo dell'artevallo, aprirlo e sostituire l'ingrenaggio. Sempre qui a tenervi compagnia e perché no a dargli tanti buoni consigli. Si può preparare ricette. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.